perché non ho mai visto Mulan che ho visto che voi la cantavate da ritorno, dal drive-in e non ho mai visto Mulan come non ho mai visto Mulan? non ho mai giù non ho mai mangiato la carbonara e non ho mai mangiato la carbonara in vita mia la vergognati non so quale delle due cose sia più grave sincero se paragona Mulan alla carbonara allora è grave per me è il Disney più bello a me è quello che piace proprio di più da quando ero piccolo poi la colonna sonora è molto bella e sono belle le versioni italiane sono fatte proprio bene di base comunque sia il doppiaggio italiano che anche tutte le versioni italiane sono belle i doppiatori italiani sono i migliori siamo i migliori noi ci è capitato di vedere un film qua che mi sembra fosse del nord Europa forse finlandese e tradotto e doppiato in inglese e sono tragici cioè proprio non sono in grado di doppiare io l'ho visto una volta invece un film era American Pie non mi ricordo che American Pie fosse comunque doppiato in spagnolo cioè io ti giuro no cioè allora lì sai l'italiano che prendono non so il personaggio tale se gli serve una voce più grave più più cattiva gli mettono quella il personaggio più tranquillo ecco lì invece no voci veramente basiche quindi la vocina di merda no bruttissimo brutto guarda e noi che stiamo rivedendo un sacco di film in lingua originale ti rendi conto di quanto loro curano tanto cercare di dare una voce che rispecchi tanto il personaggio rispecchi tanto magari anche la voce dell'attore però ti dico che allo tempo stesso in lingua originale il film ha tutto un altro sapore cioè non riesci più a tornare a vederlo in italiano come gli anime è come gli anime bravo in giapponese non torni indietro non torni indietro tutta un'altra storia come state? che dite? va si mangia si cresce dai ti vedo ti vedo madonna qua invece guarda adesso la gente la famosa settimana in cui si rende conto che tra poco ci saranno le gare e devono posare quindi vi lascio notare la barba la barba io non riesco a farmela da tre settimane faccio cagare vi giuro cioè mi stanno io oggi ho passato tre ore stamattina di psicanalisi a commingere tre bikini che avevano un fisico decente per salire sul palco perché non erano convinte ti giuro devo prendere la laurea in psicologia cioè devo farmi pagare perché ti giuro sto passando più ore a convincere la gente che ha un fisico da palco che piuttosto di insegnare a posare e invece quelli che non hanno il fisico da palco sono convinti devi fregati perché ti vogliono salire no esatto esatto ma raga sai cosa ecco questa settimana vi giuro ne ho sentite troppe di minchiate cioè paranoie assurde obiettivi assurdi perché si parla qua di obiettivi grossi capito quindi e io ne ho sentite troppe quando ne sento troppe poi dico ok ecco perché poi sai quando mi sentite con la voce esasperata ma anche voi delle volte perché devo sentire dalla casa non che io sono stronzo che sento di quelle robe inascoltabili cioè della serie no no cioè ovviamente non posso dirle perché poi mi sgamano ah quindi mi hai detto che ero forte e facevo cagare no però cavoli cioè di quelle robe che tu dici ma scusa ma sono un po' sincoci o sono cioè boh cioè noi che facciamo questo lavoro secondo me delle volte ci dovrebbero pagare per ascoltare ma non è una cazzata perché solo per ascoltare delle cose e fare la faccia convinta ci vogliono tanti soldi per farla bene quella faccia lì perché io veramente le mani sotto sono ma invece il mio bello e il brutto è che io non riesco mai a dire le bugie quindi a me escono troppo troppo spontanee sia le cose belle che le cose brutte no quindi però c'è anche un pregio anche perché non farei per il culo le persone digli no andrei benissimo prenderai la pro card farai strada se poi alla fine lo sai che farà difficoltà a piazzarsi nella gara del paese anche io sempre onesto giustamente con i dovuti modi però poi sai a me ma penso anche a voi chiedono ma tu che ne hai visti come mi vedi in mezzo a lì e io te la dico non ti vedo bene no della serie io ti dico pure quanti calci ti becchi non c'è problema però ragazzi io per esempio preferisco mille volte chi mi dice la realtà in faccia cioè nel senso guarda Marco secondo me si va bene così però la gamba devi tirarla di più comunque devi metterla in una posizione o deve arrivare più tirato lì o più grosso lì piuttosto che uno che ti dice sempre vai grande bellissimo poi invece alla fine scopri che non è vero se poi logicamente è il tuo coach che te lo dice lì è ancora più grave finché te lo dice vabbè uno con cui parli su Instagram così tanto per è un conto però il coach deve essere così in coach c'è le cose in faccia che magari cioè io dico sempre è meglio una brutta verità che una bella bugia cioè piuttosto di una brutta verità che però mi fa crescere che una brutta che una bella bugia che invece non mi porta da nessuna parte ma poi sai cosa raga almeno io faccio così cioè io ovviamente mi pagano per lavorare su quel materiale cioè mi arriva un fisico con il ragazzo se analizza quel fisico innanzitutto i difetti perché come ho sempre detto uno deve essere consapevole di com'è deve essere estremamente forte nel suo piccolo però poi da lì a pretendere di essere forte contro degli altri che nel loro piccolo sono forti là ce ne passa nel senso tu nel tuo devi essere impeccabile però poi vai a fare una gara con gli altri ovvio che se poi uno chiede il parere giù rispetto agli altri come mi vedi io poi là ovviamente cioè se uno me lo chiede là glielo dico cioè se sei una bikini è comunque caruccia ma io lo so che in categoria con lei se le becca sei che sono fotoniche io ti dico esattamente che ti manca una spanna per arrivarci per quanto tu sia bello e caruccia nel tuo però ecco quella è consapevolezza cosa come ha detto Marco a maggior ragione il coach ai loro atleti dovrebbe essere obiettivo poi c'è una cosa che molti atleti non gli fai un cazzo cioè il coach può anche dire no guarda non sei pronto per quella gara per quella federazione loro devono smusarsi lì è nato il discorso il solito discorso che poi perdi il ragazzo cambia coach fin quando trova quello disposto a dire ma che bella che sei vai e quello è un classico finché non trova quello che la riempie così tanto di chimica che riesce a portarla in gara perché è questo è anche quello esatto e non è anche quello tra l'altro no ma io preferisco piuttosto perdere il cliente perdere l'atleta ma digli sempre la verità piuttosto di imbarcarlo di stronzate e che dopo alla fine lui al momento è come per esempio quando vai a scuola che c'è il professore strarigido che se fai una cazzata ti dà la nota però perché logicamente lo fa per il tuo bene tu al momento da ragazzino lo vedi stronzo però poi quando lo guardi da grande dici cazzo non sai che faceva bene sto professore perché voleva insegnarmi qualcosa piuttosto che invece il professore che ti faceva fare quel cazzo che volevi che però alla fine non ti ha formato tu sei andato a scuola hai perso tempo cosa che è successo anche a me per vabbè vabbè questa scuola che frequentavo professori che magari se ne sbattevano le palle tu andavi lì ti divertivi però alla fine poi non ti ha portato niente stessa cosa un coach che al momento ti dice guarda c'è da migliorare qui qui e qui per adesso non sei pronto stai ai box ci penseremo fra uno o due anni a gareggiare quando sarà pronto il tuo corpo tu al momento dici cazzo questo qua è uno stronzo perché non vuoi farmi gareggiare ho capito ma quando poi sali sul palco ti rendi conto che ti hanno fatto un culo così allora a sto punto ci ripensi dici cazzo sai che forse il coach non aveva proprio tutti i torti se invece vai da quello che ti dice vai andiamo spacchiamo prendiamo la pro card poi vai e fai fuori dai 5 dai 6 dipende dalla federazione in cui vai al momento tu sei stato gasato e dopo però invece quando prendi la batosta dopo lì comincia a piangere ti rendi conto che ti ha detto delle stronzate ma Marco vedi questa cosa qui come ho detto dopo nel bodybuilding ti dirò nel mio io guarda avrei tanto voluto un coach che mi prendesse a cacciare il culo ti giuro cioè io non ho mai avuto un coach che mi abbia detto fai cagare al cazzo ti giuro no no nel senso io ho sempre avuto dei coach comunque benevoli come li definisco io grandissimi professionisti ma tutti benevoli che dicevano ok dai va bene no no nel senso la gamba fa cagare il petto fa cagare questo fa cagare facciamo questo per migliorarlo io ho avuto sempre gente che comunque cercava di migliorarmi ma senza cioè per fortuna mia se era mia fortuna quella è stata che io mi facevo cagare da solo e quindi proprio per questa cosa qui mi ha spinto a auto diventare critico ma se non era da me io so esattamente i miei limiti perché mi guardo io e mi tra virgolette disprezzo come si suol dire ma se difendeva dai miei coach nessuno mi ha mai preso oh no qua ti spaccano il culo cioè infatti il culo mi hanno spaccato spesso ma poi se non mi mettevo io sotto non era la cosa infatti adesso ci vorrebbero più coach come nel tuo caso te o anche altri che comunque bastonano perché giustamente poi vengono fuori dei ragazzi che invece sono già molto tromfi molto pieni di sé beccano dei coach benevoli è finita ormai sono tutti pieni di sé comunque da quello che vedo anche perché io i bodybuilding soprattutto in questo periodo di lockdown sta diventando uno sport dove la competizione è su instagram nel senso che è tragico come la gente prenda come punto di riferimento e quest'ultimo anno di gare se vuoi andate a vedere tantissimi atleti ci hai insegnato proprio come instagram non ti dice assolutamente com'è fisicamente un corpo un atleta tutto guardate anche a livello dell'olimpia ti sparo un reagan grimes piuttosto che un logan franklin che su instagram sembravano atomici atomici cioè chissà che che devono portarsi ma anche uno stesso brandon curry anche uno stesso brandon curry quando vedi le porto il famoso specchio del kuwait sembra molto più granitico più duro più vascolarizzato poi per carità è arrivato secondo all'olimpia non è che stiamo parlando di uno che è arrivato esatto però sul pile puoi vederlo nelle foto sembra veramente una persona ad esempio di logan e di reagan grimes c'erano proprio una struttura falsata cioè un utilizzo di photoshop che per carità è il tuo lavoro cioè a un certo punto quando hai tot follower è il tuo lavoro per cui mettiamolo da conto però che ti modifica proprio il rapporto bacino clavicole del tutto alterato del tutto alterato mi faccio il caso Ludo quando avevo visto l'olimpia insieme la notte che sono usciti classic Franklin rispetto agli altri ai top 5 sembrava secco sembrava lungo e sottile dalle foto lo vedi se giunture questi muscoli dici cazzo che bello infatti parlavo con Marco prima dell'olimpia aspettiamo Franklin sai Marco ti mi hai detto forse farà top 5 così no no io ho detto che secondo me non sarebbe mai entrato entrato Marco le previsioni le ha prese tutte pure su Philit non ho decimo sembra non mi ricordo esatto anche su Philit l'avevo detto Philit l'hanno massacrato ah no che stai dicendo Philit adesso arriva ha detto che arriva di qua di là è toppato è toppato però per lui ti vedi comunque Franklin l'avevamo nominato della serie uno dei nomi più attesi perché proprio queste foto qui poi l'abbiamo visto e ho detto cavoli è piccolo cioè lungo sottile ma che è totopatente diverso ma a proposito di questo questo era autoproclamato cioè capisci non è che era tutto da solo Saganta e Sasona messo da qualcuno si faceva le comparazioni con Bamstead con Ansley con Cambronero si metteva lì lui nella top 5 con Terrence Ruffin per top 5 lui metteva Cambronero Ruffin Ansley Bamstead e lui e cose che invece dopo arrivare Marco ma la cosa bella sai qual è ne conosco di altri di classiche in Italia che giocano dicevo ne conosco di altri di classiche in Italia che giocano a fare classifica con altri peccato che questi qua sono piazzati sempre male fanno la classifica con te con altri che invece hanno vinto capito io dico aspettate arrivare secondi prima di fare la classifica col primo piuttosto che arrivare ottavi decimi e mettervi a confronto col primo perché poi sono ridicoli cioè sai cosa delle volte la gente continuano a dare la colpa ai giudici ai giudici alle politiche però io dico un'atleta forte che merita ti inculano una due volte la terza volta ti fai notare se sei forte non è colpa non è colpa sempre sei gare su sei dei giudici che poverino e la gara sbagliata fatevi due domande questo è uno sport comunque dove prima o poi secondo me la forza fisica di un atleta la premiano perché non possono metterti sempre cioè J.Cathed prima o poi l'ha vinto l'Olympia non è che era un atleta di merda che l'ha messo a vita secondo dopo un po' è sbocciato quindi io sento questi atleti che non fanno neanche podio che fanno i confronti con un Marco o con altri che sono professionisti sono ridicoli pensate a far podio poi forse pensiamo alla vittoria ma fanno di quei paragoni ma anche questa settimana io guarda ho parlato con diverse bikini soprattutto wellness imparanoiate perché vedevano foto di altre fatte nei cessi cioè io dico ragazze appunto come ha detto Ludovico foto ritoccate di altre ma la gara si fa sul palco ma neanche nel backstage nel backstage non vale neanche perché tu quello lì lo devi vedere in posa a fianco a te quindi fin quando una non sale sulle scalette cioè cosa guardi le foto e vai in paranoia per altre non ha alcun senso e lo fanno tutti tutti si stanno rovinando le preparazioni perché guardano le foto delle altre cioè io non ho senso e più glielo dici e più guardano Instagram è una cosa assoluta io ho visto per esempio questa grandissima evidenza l'europeo ad Alicante l'avevo già detto anche in un altro podcast mi sembra che ho visto Tavi Castro per esempio ragazzi Tavi Castro lo vedete nelle foto sembra sempre squartato rotondo ragazzi aveva il culo e i femorali lisci era pieno d'acqua poi fa niente se su Instagram vi dice che è arrivato terzo all'assoluto che vabbè ho letto anche sto commento cosa che invece è arrivato terzo nella sua categoria non all'assoluto c'è una gran bella differenza però logicamente sai per i follower all'assoluto non c'è la classifica c'è il vincitore no direttamente Alicante sì perché erano su quattro categorie si sono scontrati tutte e quattro categorie classe A B C e D e i primi tre hanno preso la pro card perché Alicante era considerato e qui essendo l'europeo era come se fosse stato un Olympi Amateur e l'Olympi Amateur ci sono sempre tre pro card per categoria però dicono solo chi vince la pro card è questo che dico sì esatto sono i tre però loro partono dal terzo classificato per la pro card il secondo classificato è il vincitore dell'assoluto appunto dell'assoluto che vince anche la pro card però la vince come primo però quando c'è una pro card che va all'assoluto dicono solo il vincitore esatto esatto se tu vuoi posizionare tu devi andare a chiedere i cartellini ai giudici e vedere che hanno dato io per esempio sono andato a vedere i punteggi che hanno dato all'assoluto che ho vinto in Polonia e c'erano proprio i punteggi eravamo arrivati a pari punti il polacco era arrivato invece appunto terzo ma quello che avevo detto anche appunto quando abbiamo fatto il podcast sui classic fisica i giudici mi avevano detto che avevano vinto per il posing e la tenuta di palco più da classic quindi Giuseppe qua gongola adesso sì vabbè comunque si torna lì Davi Castro per esempio visto nel backstage era proprio uno di quegli atleti che non ti colpisce cioè molto morbido bravissimo posatore perché comunque ha fatto una bellissima routine infatti lui si lamentava anche su Instagram del fatto che i giudici non avessero tenuto conto della sua routine però ce lo fagli capire che è una gara di bodybuilding non è una gara di danza il posing è importantissimo ma uno non vince le gare solo perché posa bene perché se sei liscio e su 20 foto che metti dell'europeo ne metti 20 di fronte perché in back eri liscio e non ne metti una forse la gente si fa due domande addirittura aveva messo una foto in cui si vedeva il back ma tagliato dai lombari in giù quindi i glutei e i femorali li aveva tagliati e io mi vengo a dire molto con il francesismo grazie al cazzo cioè se fai vedere solo le cose positive e infatti dopo è stato messo dietro dato per vincitore il pretendente della Procard è stato messo dietro perché sui social a 3 milioni passa di follower sembra sempre tirato io ho visto anche per esempio il servizio fotografico il servizio fotografico che ha fatto il giorno dopo e tu guardi le foto e dici minchia faceva paura e poi invece io ho visto nel backstage perché eravamo io e l'altro italiano Emanuele Ricotti a fare l'escaldamento insieme nel backstage ce l'avevamo di fianco e vi posso assicurare ve lo posso assicurare che era l'ultimo di quelli che notavi l'ultimo e poi si è stato messo terzo perché logicamente io ho lì per esempio il pass del backstage dietro c'è la sua foto con la sua marca divertiti la competizione capisci che vabbè comunque lui Sergi Costanz uguale bellissimo nei servizi fotografici tiratissimo rotondo grosso lo vedevi di fianco a un Christian Zagarella che ha vinto l'europeo ragazzi Christian è alto 20 centimetri forse di meno di Costanz ma sembrava il doppio cioè aveva una vita strettissima un tiraggio della madonna o il vacuum cioè Christian Zagarella è uno che per esempio sui social non parla ma quando va a far le gare fa i fatti e ha fatto vedere che in quel caso vincono fortunatamente i veri atleti e non il influencer di turno che ha milioni e milioni di follower che fa servizi fotografici ma alla fine in concreto sul palco no assolutamente ma il problema di oggi qual è che questi ragazzi da casa non mirano a diventare come un Zagarella che è un atleta mirano a diventare come il follower però vedi anche lì questi follower comunque ci sono arrivati e questi influencer ci sono arrivati alla pro card comunque hanno fatto la loro gara sono diventati pro poi che una volta da pro cazzeggino e non diano libero il potenziale è un altro discorso come fa un Reagan ok però intanto ci sono arrivati alla pro card ma che un ragazzino pensi già a diventare influencer non avendo mai gareggiato e non avendo mai neanche i numeri per diventare professionista è molto grave cioè della serie vuoi tirartela vuoi atteggiarti diventa pro poi puoi fare anche lo stronzo passatemi il termine ma diventa pro perché comunque dopo ti fai come quando arrivi nei pro ma come abbiamo detto anche quando arrivi alla pro card è da là che inizia cioè nel senso là è un punto di inizio non in Italia è vissuta molto così te sei un caso a parte di serietà altri la vedono come un punto d'arrivo per poi ovviamente specularci su e quindi andare come fanno tutti del resto però il problema è che si tratta comunque di uno sport pro di bodybuilding vuol dire che tu devi fare gare di bodybuilding poi che tu monti un business sul tuo essere atleta è un altro discorso come funziona per gli altri sport se tu vedi una pellegrini c'è un business che li ruota intorno ma nuota cioè non è che poi si ritireranno domani ma fintando che nuota ha tutto il business intorno solo nei bodybuilding gli atleti diventano pro non gareggiano da pro e guadagnano e provano a guadagnare sul loro essere pro ed è sbagliatissimo assolutamente perché prima o poi qualche gara la vorrei più fare infatti ho meccanismi massani ragazzi io partirei a parlare anche un po' d'allenamento perché se no ci dilunghiamo io direi che ce la riserviamo quando parte la stagione agonistica questa cosa ce la riserviamo per quando parte la stagione agonistica i commenti su condizioni cari eccetera allora io vi volevo chiedere questa cosa oggi perché secondo me è un argomento che a me chiedono spessissimo e che può portare un sacco di riflessioni come è cambiato il vostro modo di allenarvi poi se abbiamo tempo parleremo anche di alimentazione però di allenarvi nel corso degli anni quindi da come quando avete iniziato gli errori che avete fatto le cose che avete rivisto le considerazioni che avete fatto eccetera eccetera quindi cosa direste al voi di magari 10-20 anni fa non so 10 anni fa siamo ancora Marco poi prima di te che sei finanziato avete 6 o 7 ore di podcast da registrare allora io dico fino a quando non ho cominciato l'approccio alle competizioni ho sempre comunque il sito al 1000% quindi ho sempre preso spunto da libri di studi piuttosto che consigli sentiti dal grosso di turno piuttosto che insomma quello che vedevo leggevo eccetera e ho sempre provato su di me quindi ho provato qualsiasi tipo di metodo allenante dai più disparati a multifrequenza monofrequenza alte ripetizioni baste ho provato persino anche il buffer per farti capire quanto è stronzato ho provato e lancia la bomba vabbè a parte gli scherzi però quello che ho cambiato fondamentalmente è tantissimo il mindset per me da quando appunto ho cominciato le competizioni il mio primo preparatore è stato Mauro Sassi Mauro con Mauro sono stati nove mesi e mi ha fatto vedere comunque un approccio all'allenamento diverso da quello a cui ero logicamente abituato io poi anche perché tante volte quando ti autogestisci in tutto e per tutto ma non avendo magari avuto l'opportunità di veramente di confrontarti o comunque di essere seguito da un qualcuno che lo fa per professione visto che comunque me l'ho sempre autogestito uno si adagia un pochino quindi magari tendi magari un po' lasciare stare alcune cose dare più importanza a altre cose che invece magari non dovresti fare quindi appunto ho cominciato a seguire Mauro e ho cominciato ad avere appunto un approccio diverso sia come metodi allenanti ma anche proprio come split accoppiamenti dei muscoli eccetera dopodiché sono passato visto che comunque ho lavorato un anno e mezzo con Andrea Presti mi ha seguito lui per un annetto e stando a contatto con lui quindi vivendo i suoi allenamenti tutti i giorni perché appunto lavoravo lì nella palestra nella sua palestra allenandoci insieme anche a volte ma anche comunque nei miei orari magari lui si allenava nei miei orari in cui lavoravo e vedevo appunto come affrontava lui l'allenamento il modo in cui si allenava eccetera e lì secondo me ho cambiato tanto il mindset e secondo me quello che conta non è tanto quello che fai fondamentalmente sì anche ma è come lo affronti quindi alte ripetizioni basse stripping drop set respose qualsiasi cosa cluster se tu affronti al 100% quello che fai in sala pesi i risultati arrivano che dopo ci sia il metodo che per te è più proficuo il metodo invece che magari ti rende di meno ti fai essere meno performante ti dà meno risultati quello lo scopri con il tempo però secondo me la cosa che veramente cambia è cambiata anche per me è il mindset dopo a me io sono passato a Cristiano a Catoni che è ancora il mio attuale coach che mi trovo da Dio sono con lui ormai da tre anni e anche lui mi ha fatto conoscere altri metodi ulteriori anche se comunque io mi autogestisco tanto nell'allenamento infatti mi sono confrontato tanto anche appunto con Giuseppe ultimamente o con Te Ludo e in base a quello logicamente vado a strutturarmi quello che è la programmazione la split eccetera però adesso vado molto a sensazione ho capito intanto la Fede sta andando il telefono e ride così a caso comunque una capacità di sintesi incredibile poco dura adesso devo cercare di uguagliarti aspetta una cosa senti ascolta riguardo al mindset che cosa intendi parlo in uno specifico cioè quali sono gli errori che facevi prima le cose in cui cadevi diciamo cos'è che è cambiato nell'approccio allora secondo me prima era un approccio che logicamente se non ti stai preparando delle competizioni e non hai l'obiettivo a vista quindi non hai un qualcosa di veramente concreto da raggiungere ma magari quello che dovevi raggiungere era solo la forma per l'estate ipotetico oppure il provare un programma allenante e spremerti al massimo però avere comunque ogni mattina quando ti alzi l'obiettivo del ok adesso devo costruire tot chili per arrivare in gara in un certo modo devo puntare sulla rotondità del deltoide quindi so che comunque durante l'allenamento devo metterci un focus talmente alto da riuscire neanche più ad alzare i gomiti quando esco dalla palestra cioè quindi come affronti appunto ogni allenamento in base all'obiettivo che ti sei posto se infatti quello che tanti mi domandano voglio far le gare cosa ci vuole ci vogliono i polloni perché se tu ti alzi tutte le mattine e sai cosa vuoi e l'opti al 100% per ottenerlo allora arrivi ok quindi se hai l'obiettivo a vista e lo persegui in tutti i modi è un conto se tu hai l'obiettivo a vista ma lo affronti così come appunto di portare la forma da mare dalla spiaggia secondo me non non arrivi da nessuna parte quindi è il mindset che cambia proprio quello è l'affrontare tutto non solo l'allenamento alimentazione la giornata il riposo qualsiasi cosa al 2000% per portare i miglioramenti al massimo del tuo fisico guarda io sono d'accordo su questa cosa perché la gente non si rende mai conto di quanto veramente il tuo corpo riesce a dare nel senso che ad esempio io e per me il cambio molto è stato quando ho iniziato a farmi allenare da Stefano Greco e Stefano là mi ha dato un input ossia se devi fare cioè di più non è meglio ma meglio è meglio cioè se vuoi fare meglio devi fare meglio non devi fare di più perché io venivo comunque da una scuola che dava priorità all'evidence based quindi molto volume anche molto spesso lavori in buffer eccetera eccetera e io sentivo che faticavo cioè io in palestra ero cotto a livello percettivo per i miei standard quindi se tu mi dicevi tu sei uno che si spreme io ti dicevo porca vacca io mi spremo più di tutti sei uno che fatica in palestra io ti dicevo sì fatico più di tutti cioè mi consumo cioè dal mio punto di vista Stefano mi ha fatto vedere anche semplicemente che cos'è una serie fatta da un bodybuilder cioè una serie lui mi ha detto cioè è proprio bastato quello questa è una serie mi ricordo dopo la prima allenante e io tipo là mi è caduto un mondo ho detto ah quindi io devo far questo su tutte le mie serie cioè è questo che è una serie no e la percezione che io ho avuto è stata proprio del imparare che innanzitutto quello che tu percepisci cioè è inutile che tu dici sì sono uno che si spreme c'è sempre qualcosa in più che puoi dare sempre quindi il problema è anche la gente che ha l'idea sì vabbè ma io mi spremo non ti stai spremendo cioè tu parti io stesso adesso quando vedo tutto ragiono sempre sul fatto potrei far di più potrei spermi di più potrei andare oltre ok e cerco di essere sempre consapevole di questa cosa e non accontentarmi mai ma al tempo stesso entra nell'ottica che secondo me è proprio la frase che racchiude il bodybuilding ogni ripetizione conta ogni ripetizione cioè tu devi curare in maniera maniacale dalla prima all'ultima ripetizione in maniera precisa nel suo active rom a livello di connessione muscolare devono essere perfette e l'ultima ripetizione devi portarla allo estremo muscolare cioè tu devi puntare sempre a fare di più nel caso provarci cercare di e quando credi di non riuscire fare ok e è proprio questo cambiamento di mindset in cui tu vai in palestra con questa cognizione che ti da una parte ti abbatte rispetto a prima logicamente il volume che tu riesci a fare per logica di cose perché è un po' un trade off poi chi riesce a sopportarne di più come Marco chi riesce a sopportarne di meno però di base io là ho visto che il cambiamento vero di mindset è questo cioè il fatto di iniziare a trattare ogni serie in maniera religiosa quasi cioè non devo buttare là e sparare 10 ripetizioni no devo andare là concentrato e curare nel dettaglio secondo me qua è dove è l'errore che io sono convinto che il 90% delle persone che stanno ascoltando adesso e che credono di allenarsi in maniera impeccabile è l'errore che fanno perché è un errore che faccio anch'io cioè io da questo punto di vista so che non raggiungerò mai la perfezione è sempre un continuo migliorare a livello di forma di concentrazione di connessione muscolare è quello veramente il miglioramento il progressive overload che non finirà mai che tu puoi avere all'infinito infatti il vero campione è l'atleta che comunque pensa di non essere mai arrivato se tu pensi di essere arrivato di aver imparato abbastanza sei finito come atleta come professionista ma anche come coach se tu pensi di sapere tutto quindi non apri più un libro non ti confronti più con gli altri professionisti non hai anche le palle perché tante volte ci vogliono proprio i coglioni per dire cazzo io questa cosa in questa cosa pecco quindi devi informarmi devo mettermi a confronto con qualcuno che ne sa di più anche se magari quella persona sa di meno in tutto il resto ma in una determinata cosa sa di più confrontati cerca di imparare se uno ha sempre fame di imparare automaticamente avrà sempre un margine di crescita è stessa cosa l'atleta stessa cosa un coach o insomma qualsiasi lavoro della vita anche un imprenditore qualunque lavoro noi facciamo se abbiamo ancora del margine tutti hanno del margine di miglioramento chiunque e uno si rende conto di questo allora può crescere e migliorare sempre vi faccio questa domanda poi arriviamo a Giuseppe però per chi mi è venuta in mente adesso allora una cosa che ho notato è questa io sono stato sempre ho avuto sempre quest'idea del se devo imparare a fare bodybuilding devo andare da chi bodybuilding l'ha fatto da chi è riuscito ad ottenere risultati da chi è migliorato eccetera quindi ho sempre avuto l'idea del farmi allenare da quelli grossi poi che tu magari ne ricavi soltanto una piccola pietra una piccola cosa da custodire un piccolo spunto eccetera ben venga però di base cavolo se voglio imparare a diventare grosso è da chi è grosso che devo apprendere io adesso invece che il trend io vedo che il trend è è molto diverso nel senso che la gente parte dall'assunto che quelli grossi sono ignoranti e non hanno niente da insegnare sono arrivati così come così e vabbè ma addirittura a me hanno scritto dell'evento questa è una cosa che ti giuro a me mi ha strappato l'anima l'evento di John Meadows e Eugene Tio mi hanno scritto perché logicamente io poi portando ragazzi in federazioni natural e tutto il resto gran parte del mio pubblico è natural e molti mi hanno scritto ah vabbè Ludo che ci abbiamo noi da imparare da un dopatone John Meadows ok e là cioè capito quindi quello che loro possono imparare che le persone io poi per fortuna questa è una piccola ovviamente percentuale delle persone che mi seguono io sono fortunatissimo dal punto di vista delle persone che mi seguono e seguono questo canale perché sono un po' degli illuminati possiamo dire nel senso che sono persone che per fortuna ingranano e ragionano però molte persone io vedo che rifiutano proprio il concetto di prendere spunti da chi è grosso è fisura mentale fisura mentale è assurdo è perché loro non perché loro se gli parli di resistance profile non sanno ma che cavolo vuol dire questi lo sanno benissimo se ne rendono conto perché ti sanno descrivere esattamente tutto quello senza sapere i concetti magari di meccanica di fisica meccanica e tutto il resto però te le spiegano esattamente queste cose perché le sentono esatto magari non sanno spiegarti bene il termine preciso con la nomenclatura eccetera eccetera però all'atto pratico te lo fanno vedere ed è la stessa anzi forse anche meglio logicamente questa è una cosa io parlando con Gabriele Andriuli che è appunto un professionista italiano di bodybuilding su sedia rotelle cioè non l'ultimo arrivato in un altro secondo all'Olimpia cioè si sta parlando di uno dei migliori 2 barra 3 nella sua categoria al mondo io parlando con lui lui diceva io ho imparato veramente ad affrontare l'allenamento e ad allenarmi io sono sempre allenato comunque non è un ragazzino Gabriele e lui ha detto che ha imparato ad allenarsi da quando è cominciato a farsi seguire da Dorian cioè lui andando da Dorian Dorian Gate per chi magari non collegasse sai visto che magari come dici tu mi fa anche se un buon batone per dire ma è stato tipo Marco non mi precisare ha vinto 6 volte l'Olimpia esatto appunto no è quello uno che aveva un mindset che del tipo c'è un aneddoto di questo amico di Dorian che diceva che erano insieme a capodanno e a mezzanotte lui aveva parte che non aveva mai bevuto nulla mangiato nulla fuori dalla dieta eccetera a mezzanotte ha bagnato le labbra con lo spumante a mezzanotte 06 dice a tutta la tavolata vabbè ragazzi io vi auguro un buon anno adesso vado a dormire che domani mattina alle 6 suona che devo alzarmi a fare gambe quindi uno che comunque non è diventato mister Olimpia a caso cioè lascia stare ok e quindi lui diceva a Gabriele che da quando ha cominciato a farsi preparare da Dorian ha veramente imparato che cazzo volesse dire l'intensità cioè lui diceva che lui ti prepara ad ogni serie come se fosse un rito cioè ogni serie tu te la devi anche tu ogni allenamento lui dice tu devi preparartelo in testa devi studiartelo cercarti prima ancora di entrare in palestra così quando tu sei proiettato in palestra e tutto ciò già nella tua mente il tuo corpo riesce a esprimerlo meglio c'è una cosa che sembra una cosa zen però se applicata veramente che tu arrivi come se fosse un rito tu affronti l'allenamento con una concentrazione con un qualcosa che nella tua mente hai già vissuto e devi solo metterlo in pratica con i muscoli quindi con il tuo corpo lui diceva da lì io ho imparato veramente che cazzo voleva dire l'intensità cioè poche serie allenanti ma quelle serie ragazzi esci che sei di brutto ammazzato cioè quindi imparare da quelli non è una cosa brutta va benissimo leggere i libri come diciamo l'altra volta ti forma ti aiuta a capire tante cose però secondo me è l'atto pratico ad andare a imparare da quelli grossi che poi grossi lascia stare i grossi però da quelli comunque hanno avuto una carriera importante che hanno avuto comunque risultati li hanno fatti avere un Milo Starcell Milo Starcell ha avuto dei grandissimi risultati da atleta adesso da coach è uno di quelli che comunque la gente in qualsiasi maniera dopo discutibile o non discutibile però lì intanto la gente sul palco la porta in forma c'è un Max Charles che è un professionista che prima di andare con Milo è sempre arrivato in forma buona però comunque non è mai stato uno dei top adesso arriva con la bella carta velina grosso tirato svenato bellissimo cioè ragazzi se tu vai a imparare da un Milo impari capisci Marco facci caso ecco Milo che è spesso criticato per i vari approcci così a mio modo di vedere è uno dei coach che ha preso delle genetiche merdose nippo unidettata Yamaguchi e l'ha portato a vingere delle gare andare all'Olimpia cioè Yamaguchi io me lo ricordo quando era amateur non lo avessi notato altro che nel backstage non lo notavi nel bagno del backstage cioè l'ha preso l'ha portato in una forma cioè ragazzi io l'ho visto dal vivo Yamaguchi al massimo della forma nel 2007 ho preso paura alto come me una rotondità ma poi ricordiamoci che tutti i più grandi americani vedi Dennis Wolf nel 2007 quella fu un'annata storica Dennis Wolf 2007 Silvio Samuel 2007 Yamaguchi 2007 tutti gli atleti dell'Olimpia 2007 tra cui Johnny Jackson che fu l'unico anno in cui ebbe le gambe sul palco perché Johnny Jackson non aveva le gambe 2007 Milos aveva 8 atleti dell'Olimpia 8 atleti dell'Olimpia porco Giuda tutti messi quasi nella top 10 tranne i due che però pecero 11esimo e 12esimo ma al massimo la loro forma cioè vuol dire che uno prende una genetica di me merda e ti trasforma letteralmente e poi di merda gente all'Olimpia non è che aveva però appunto parliamo di proporzioni muscoli non ovviamente eccelsi per il livello d'Olimpia ecco ha preso questa gente qui le ha stravorti le ha stravorti Milos al di là di quello che si crede lui è un approccio molto simile cioè un'evoluzione se vogliamo dell'heavy duty perché lui ha una componente HD molto forte e poi ci butta giant set lui la cosa che disse che dice sempre in intervista dice ragazzi i miei allenamenti non sono giant set cioè io faccio heavy duty poi ci sparo il giant set finale cioè quello è un lavoro di iperemia finale un pump finale che è molto simile se vedete a tantissime metodologie sempre struttura FDFS quindi anche là una cosa che ho sentito più volte è stata questa quando è arrivato Dorian sono entrati tutti in fissa con Dorian ok approccio alta intensità e tutti ad allenarsi ad alta intensità e dice là in quel periodo il bodybuilding in generale ha fatto un bel passo avanti cioè i fisici i medi hanno fatto un bel passo avanti quando è arrivato Coleman tutti hanno iniziato a fare come Coleman quindi tanto volume tanto peso e dice là non è che ci sono stati tutti questi grandi miglioramenti perché la gente non si rendeva conto che mentre Dorian aveva effettivamente capito qualcosa del portare il corpo al limite al massimo potenziale Coleman era una cosa che non puoi imitare è una cosa che tu se voi andate a vedere Coleman come lavora cioè i video che ha fatto quello che ha fatto Coleman in generale ragazzi io come fa cioè non è una cosa replicabile è una cosa che ancora non capisci come cavolo riusciva un allenamento gambe del genere proprio a livello di pesi mossi cioè una cosa che va bene solo per lui cioè Coleman ha fatto un allenamento di petto di Coleman ve lo ricordate allora lui faceva due allenamenti a settimana 4x12 tre esercizi una volta faceva solo spinte con i bilangeri panga piana 4x12 panga inclinata 4x12 panga declinata 4x12 il secondo workout era identico 4x12 al posto di bilangeri i manubri cioè tu mi devi dire adesso chi cazzo cresce facendo 12 serie per 12 per il petto di sole spinte è ovvio che cioè idem quelle con quei carichi con quei carichi e l'avvicinamento cioè lui faceva un avvicinamento a 25 ripetizioni 20 ripetizioni con carichi sovrumani cioè il suo la prima serie è il mio massimale capito? è sempre il discorso perché chi questi natural nerd di oggi vedono un 4x12 Coleman sulla schedina dicono eh lavora in buffer poi però ti fa mille di pressa quando dici cioè capisci che cioè Coleman faceva 4x12 aumentando il carico a parità di ripetizione è una cosa in umana cioè cazzo fenomenale anche se era un metodo tra virgolette più basic rispetto a un Dorian molto più incentrato cioè Coleman masticava la gomma e parlava con lo spotter di fianco Dorian non parlava se non grugnire e urlare quindi vedi un approccio diverso però immagina Coleman che proprietà sovrumane aveva cioè quello masticava il churigam con 42 gradi 45 in Texas parlava col tipo e poi dopo un po' si metteva sotto la pressa e faceva mille chili col sorrisone cioè col sorriso cioè per lui era un gioco ecco per lui muovere i pesi era un gioco e infatti adesso vedi nonostante i vari interventi che ha subito quando lui si mette una settimana dopo l'intervento a muoversi per un mese lui ridiventa comunque tonico non è che atrofico cioè ovvio che la gamba i vari incidenti della schiena tutto non crescerà più ma di sicuro il muscolo sa esattamente quel regio di movimento per riprenderlo in un mese dopo un intervento se ne sarà fatti una trentina ormai comunque ritorna tonico quindi è già 8 anni capito quindi anche lì ragazzi bisogna solo che imparare da questi qui che hanno fatto la storia di sto sport solo che adesso vedi non c'è semplicemente rispetto non c'è rispetto c'è chiusura mentale e c'è ovviamente questa brutta informazione data in giro da certa gente che fa passare questi personaggi che in teoria hanno fatto questo sport perché di quello si tratta perché ricordiamoci che sono loro che hanno diffuso i bodybuilding non i natural che sono nati dal nulla hanno diffuso i bodybuilding i natural per me parola natural è un appendice del bodybuilding che adesso sta facendo troppo marketing per catturare adepti il problema è che se tu vuoi catturare adepti con il marketing su una filosofia devi comunque rispettare la storia di questo sport e questa è una cosa molto paradossale che non stanno facendo cioè i natural adesso per guadagnare e marketizzare il loro metodo sputano merda sul doping quando in realtà il doped non sputa merda sul natural perché del natural non ce l'ha neanche per il culo questa è la differenza capito quindi come disse l'altra volta come disse l'altra volta Alberto Grazia i natural quelli buoni si allenano e non rompono il cazzo gareggiano contro i doped e si piazzano basta non rompono il cazzo sui social si allenano e non rompono il cazzo per cato che adesso i natural rompono il cazzo e poi di allenarsi non se ne parla perché non ne vedi mai li vedi tutti a parlare di buffer ma mai a vedere un video di allenamento spinto questa è una cosa bella capito questo è detto da un natural convintissimo come dice non è che è detto no che però amo il bodybuilding e lo amo dall'atleta grosso a me mi piace il bodybuilding mi piace allenarmi mi piace vedere l'atleta forte sul palco a me i natural di merda sul palco non mi piacciono se un natural sale ed è forte sono il primo ad applaudire ma ti deve piacere il bodybuilding la matrice come diceva Ludovico nei primi podcast è quella se tu sputi merda su una parte del tuo sport non hai capito niente non ti piace il bodybuilding nella serie ragazzi allenatevi e divertitevi secondo me a molti non piace neanche allenarsi non piace neanche le gare cioè parlano di cose che non hanno né provato né vogliono provare cioè stiamo parlando di quello perché mentre Marco pensa a Torrena Ghezzi infatti ne parlavamo comunque di organizzarci per andarci mamma mia cioè questi qua piuttosto si vanno a fare il seminario non posso fare nomi ce ne sono ormai 2000 piuttosto che andare a Torrena Ghezzi io se mi devo mettere due soldi da parte vado da Torrena vado da Midom non vado a farmi il seminario con l'attestato che dice che tu sei bravo cioè io mi vado a far spaccare il culo una settimana in Inghilterra piuttosto ragazzi ma siamo noi perché siamo qua in Inghilterra così vicino a Birmingham però vedi ragazzi è proprio un sistema di valori il problema qual è che fin quando c'era gente che spingerà nel senso opposto è difficile poi dipende dai ragazzi rendersi conto perché i ragazzi sono convinto che sono plagiabili ma non sono cretini cioè sono malleabili ma dopo un po' ti rendi conto delle cose vere delle cose tra l'altro questa cosa vi vengo a vedere tra virgolette l'Olimpia o comunque i top che sono stati nel mondo come un qualcosa di ma che schifo sono dei bombatoni di merda è come un amante della moto ok che guarda la MotoGP e dice grazie al cazzo sono prototipi hanno 230 250 quindi vuol dire che sono moto truccate la mia moto invece non è truccata quindi quelli sono delle moto truccate raga allora io l'anno scorso l'anno scorso ci ho fatto delle discussioni ovviamente con i dovuti toni con molti preparatori natural che dicevano in assoluto di non andare al Fibo a essere in Germania a no letteno i dopati capito fai schifo cioè molte volte ho dovuto spiegare perché faccio il giudice in alcune gare il perché di alcune motivazioni mi è capitato di dire guarda che le figure devono essere uno shape esasperato vedi l'Olympia per esempio risposta ah no quelle sono dopate di merda io non le guardo boh non hai capito nulla di bodybuilding nulla nulla allora questo è un discorso che la gente deve capire secondo me in una federazione natural che si rispetti se ti arriva una figure che potrebbe vincere all'Olympia tu la devi far vincere poi fai il test però è assurdo che tu se l'atleta è da canone Olympia tu non puoi dire o un atleta bodybuilder troppo grosso o un classic che è più grosso degli altri tu non puoi dire stai fuori canone no il canone lo fa l'Olympia poi mi fai il test se io sono un natural geneticamente portato e sono un man physique Olympia mi devi far vincere devo essere il re di natural cioè che cauzio discorso è a proposito però per carità la parte dipende sempre anche i canoni che logicamente perché io ho alcune federazioni come per esempio se non mi ricordo in che federazione comunque un mio amico aveva portato degli atleti e vi posso assicurare questo ragazzo era natural al 100% non sembrava natural perché io primo io per primo parlando col mio amico che l'ha portato gli ho detto dai dimmi la verità non è natural il minimo è natural non vuole neanche sentirne parlare fa non mi ha mai chiesto neanche una mezza informazione fa zero è natural sai cosa hanno fatto l'ha portato in questa federazione l'hanno messo quarto o quinto e meritava nettamente la vittoria perché era più grosso più tirato più rotondo e tutto perché gli hanno detto qua è una federazione natural era troppo tirato ma se lui da natural l'ha portato un tiraggio degno di nota ma perché non lo premi è vero magari i loro canoni sono più morbidi perché vogliono un fisico ma questo geneticamente è più portato per arrivare naturalmente sottolineato naturalmente più tirato più grosso e più rotondo teoricamente più forte degli altri no fuori canone messo dietro in ANBB per esempio da regolamento se l'atleta sembra topato cioè non esiste questa cosa in ANBB lo fai vincere e poi gli fai il test bravo adesso vi faccio ridere dato che parliamo non abbiamo peli sulla lingua allora il signor Davide Mazzolari che saluto che è uno dei pochi italiani che all'Olimpia ci è andato da Men Physique e ha vinto in occasione del suo esordio da professionista unico della storia cioè ci sono pochi come lui allora stiamo parlando di uno dei migliori Men Physique italiani gigantesco e largo io ho avuto il piacere di seguirlo addirittura sin dall'NBFI perché lui all'epoca era seguito da Cristiano Catoni dal preparatore di Marco ed esordi da natural in NBFI questa afferazione natural allora io ti giuro su mia madre e Cristiano ovviamente mi può confermare Davide i primi anni è sempre stato natural ok a 100% io quando lo vedi la prima volta in sala da me si spogliò io presi paura ti giuro oh Davide e ti dirò di più Davide Mazzolari per me per quello che è il mio Men Physique come deve essere il Men Physique da natural era più avanti di adesso occhio cioè aveva ragazzi una clavicola largo come una casa vita stretta addominali ma era gigantesco ragazzi naturalmente fa paura tanto sì esatto però per dirvi da natural io mi ricordo in paese da noi c'erano all'epoca che era di spattini c'era Renato Caleffi che era un bodybuilder vecchia scuola quando l'ha visto ho saputo farla a foto cioè con un Men Physique aveva delle braccia delle rotondità cioè il NBFI lo misero terzo ma sai qual è la scusa perché sei troppo grosso ho capito ma gli altri sembravano la sua i figlioletti lui era non è che era grosso e antiestetico era un Men Physique gigante e infatti puntualmente poi ovviamente diventato professionista e a oggi Zema e Riccardo Croci sono gli unici Men Physique pro italiani insentati al Mister Olympia nel top del mondo ok in quella gara lì pensate poi mi ricordo perché sono vecchio e rincoglionito in quella gara oltre a Mazzolari c'era una ragazza seguita anche da Cristiano all'epoca si chiamava Giulia Massini era alta due metri senza tacchi faceva figure la seguiva nel posing era di una bellezza allora aveva shape masse rispetto alle altre le altre le arrivavano all'ombelico sai perché era messa a terza anche a lei un po' troppo sovradimensionata e cosa cazzo vuol dire quella si è andata quella ragazza le hanno distrutto una carriera cioè quella lì ha smesso di gareggiare non so più che fine ha fatto cioè pensa a questi deficienti come puoi in una gara di bodybuilding dire a un atleta sei troppo forte porco Giuda cioè questa ragazza qui poverina timidissima era un pulcino di due metri cioè infatti l'avamo presa molto in simpatia molto protettivi o l'hanno fatta smettere di gareggiare perché questa qui da allora pensava di non essere forte per questo sport quando era una da natural se questa andava in proligo oggi e si tirava le apriva il culo a tutte le figure non ce n'era per nessuno cioè ecco quella era forse una delle poche italiane nelle figure che all'Olympia ci sarebbe andata se avesse continuato ma per colpa di quella gara del cazzo all'epoca sparita e là stiamo parlando di gente che anche se mangia una volta al giorno quella cresceva era forte tirava più di me in palestra però vedi poi succedono queste cose l'Italia è l'unico paese dove il merito sportivo cioè sei troppo della serie come hai detto tu Ludo boh sei in dubbio fai il test l'Italia è la pro card natural lo fai il test a sorpresa durante l'anno e ti rendi conto che voi federazione siete una federazione di merda punto poi se la becchi ma poverina allora puritana ha la paura della sua ombra tu ha una così cioè davi sta cazzo di pro card all'epoca gli era dietro al seccarecci in IFBB ma dattelela anche a voi dattelela anche a questa qui cioè capisci che io poi sono uno per il talento cioè io amo il talento dato che non ne ho mai avuto questo sport quando vedo sai quelli là quando si spogliano tu dici mamma che bello vedi quelli atleti che quando si spogliano dici mamma che talento io quando vedo il talento sprecato distrutto da gente del cazzo come certo esponenti del natural odio su sport perché dico ma ragazzi ma di che cazzo stiamo parlando cioè quando vedo con tutto rispetto per i giudici però da che mondo è mondo purtroppo fanno boiate sia alti livelli bassi livelli purtroppo è così però noi stessi siamo comunque degli atleti che sappiamo che se andiamo in una gara non facciamo i 100 metri perché se corriamo più veloce degli altri vinciamo stiamo insomma giudicati da delle persone che hanno dei gusti che possono essere tra virgolette in cattiva fede e quindi insomma sappiamo che non è giusto però purtroppo fa parte del gioco Marco adesso vi faccio ridere ma in federazioni invece come per esempio la Pro League molte ragazze natural che erano state denigrate e umiliate in federazioni natural l'anno scorso o anche negli ultimi due anni andarono in Pro League da natural eccezionali e hanno vinto cazzo ragazzi nella serie lì dove c'erano giudici da Olimpia perché c'era e lo sai te Marco anche te a Padova c'era la giudice dell'Olimpia quella lì ha una natural lei ha riconosciuto il merito di essere una bikini forte perché qua stiamo parlando non esiste natural non è che la Pro League o l'NBFI devono valutare quello che vedono se il test dice negativo o tu sei negativo mi devi mettere primo punto fino a prova contraria idem la Pro League lo squalifichi a vita da quella federazione sempre io infatti nella Pro League nella Pro League uno valuta quello che vede sul palco e appunto molti atleti natural infatti anche quest'anno andranno dalle federazioni natural in Pro League che è l'elite dei bodybuilding perché sono molto forti e vogliono avere quel che è giusto Samo ti devo fare un po' fischiata ragazzi giusei intanto dimmi un po' te per quanto riguarda il cambio di mindset allora allora guarda io faccio questa piccola precisazione perché io dico sempre guarda bisogna sempre mettere le mani avanti e spiegare la situazione allora io a difenza penso vostra o anche di Marco da quello che mi hai raccontato io non sono andato da subito in palestra io ovviamente partivo da grasso da piccolo ho fatto un anno solo a correre per perdere peso poi ho fatto tre anni ad allenarmi di nascosto nella soffitta di mio giro che aveva una rimessa di attrezzi quando lui poggiava la chiave io me la rubavo e mi andavo ad allenare quindi io sono partito senza nessuna guida amando allenarmi cioè io ecco perché a me piace molto allenarmi perché nessuno mi ha mai detto con la pistola vai allenati io mi sono messo ho toccato il ferro e mi sono innamorato mi chiudevo là dentro il mio rifugio e imparavo gli esercizi proprio sai avevo un multifunzione della fast sport all'epoca e imparavo poi scoprì in edicola i vari masculine fitness flex e iniziai appunto provando tutte le cose cioè io ho imparato da solo in palestra infatti poi cosa successe dopo tre anni in soffitta da mio zio che poi quando mi beccò dopo tre anni si rese conto di essere cretino perché dopo tre anni mi sgamò allora dopo tre anni mia madre mi portò disperata ed esasperata alla palestra dove c'erano quelli grossi del mio paese perché c'erano dei vicini pugliesi all'epoca in palestra funzionava così c'era una scheda attaccata al muro che consisteva nel fare due per dieci di ogni esercizio per ogni gruppo muscolare quindi tu dovevi allenarti tre quattro volte total body questo era quello che l'istruttore quello grosso del paese consigliava ai principianti il problema qual è io alla fine non mi sono mai fatto guidare ma perché perché arrivavo da tre anni di auto esperienza che già avevo provato tutto avevo provato Schwarzenegger avevo provato le videotti ovviamente con la forma mentis di un ragazzino perché io ho iniziato a allenarmi nel nel 98 porco giuda capito ho gareggiato nel 2005 la mia prima gara e quindi io arrivavo già da aver provato di tutto perché a me proprio piaceva allenarmi io mi mettevo lì controllavo la negativa andavo là che ero già bravino e trovarmi questa scheda qua due per dieci dicevo ma che cazzo stai a dire e infatti l'ho fatta per una settimana la feci una settimana poi la mollai lì e cominciai a fare le mie schede che continuavo a fare su internet il mio primo preparatore fu Angelo Padovani che era un ex campione delle due torri e che sfiorò anche il professionismo qua di Parma quindi io il mio perché io mi trasferì poi a Parma per l'università feci tre i primi due anni di università gareggiando nel powerlifting dove vinsi anche nello stacco dopo andai nel bodybuilding e andai sotto Angelo Padovani e lì comunque lui le schede non me le mostrava me le faceva quindi mi seguia così feci la mia prima gara con lui non andai in forma nelle prime due gare cambiai andai poi sotto l'attuale preparatore atletico della Juventus e della Nazionale di Calcio che era Matteo Pinchella che è uno secondo me dei tecnici migliori dei migliori preparatori di alleni che avevi in Europa secondo me e lui lì all'epoca seguiva dei campioni natural e quindi è lì con lui che lui entrai nel natural tra virgolette e capì che lui lui diceva sempre guarda un natural deve fare poche cose ma quelle cose le devi fare estremamente pesanti e tu devi ottimizzare quel poco che hai e devi tirar fuori anche quello che non hai e infatti con lui il mindset andò meglio però anche lui non mi faceva allenare cioè non mi ha mai allenato ma perché perché devi sapere che io all'epoca da povero studente squattrinato a Parma andavo in bici lui era di Cogozzo di Viadana in provincia di Mantova io all'epoca non avevo mai preso un treno in vita mia mi ricordo la prima volta che andai a farmi seguire da lui lui seguiva la Nazione di Rugby a Viadana io cambiai due treni tre navette e un autobus per arrivare in questo centro sportivo della Nazione di Rugby in Cula e Lupi in campagna arrivai lì il 23 dicembre che c'era la tormenta di neve ti giuro cioè a me io ho tante cose da raccontare ai miei futuri bassotti o figli io mi ricordo arrivai in un prezzo lito perché c'era da fare 6 km in campagna per arrivare a questo cazzo di centro sportivo arrivai lì viola in faccia per il freddo mi fa ma da dove cazzo vieni è da Parma ma in macchina no ho cambiato due treni cinque autobus e mi sono fatto 6 km a piedi nella tormenta mi segui per favore eh sì certo questo è il preambolo e anche lui per ogni volta che ci andavo aveva tipo mezz'ora per me perché comunque era responsabile nazionale di rugby ufficialmente eravamo sempre pieno quindi andavo lì mezz'ora mi mostrava l'esercito mi guardava e andavo quindi nessuno mi ha ecco perché quando ti dico io ho bisogno di qualcuno mi prenda a calci nel culo e mi alleni seriamente perché a me nessuno mi ha mai allenato ho iniziato a allenarmi quando ho avuto la fortuna di iscrivermi qui a Parma nella stessa palestra dove c'era Gabriele Trapani che è il mio attuale preparatore perché lui ci allenava aveva iniziato ad allenarmi lui per un periodo mi ci allenavo proprio insieme quindi sono strafortunato però comunque Gabriele è una persona molto benevola capito e quindi anche lì io diciamo che ho dovuto fare ho dovuto interpretare capire il mindset perché nessuno mi ha mai allenato totalmente detto spaccati il culo cioè è sempre stato un indicare la strada in modo benevole un accompagnare secondo me per uno come me è sbagliato nel senso mi devi prendere il calcio nel culo io infatti all'università ma anche alle scuole superiori se tu mi mettevi due in un compito io il prossimo ti pigliavo otto se tu mi tratti bene io c'ho bisogno di calcio nel culo e quindi devo gran parte del mindset di cui parlava Marco a me stesso al fatto che in primis mi piace molto allenarmi perché sono nato senza alcuna guida cane sciolto e poi all'intelligenza che ho e in più al fatto che comunque sento voi sento comunque molti preparatori comunque i miei amici che mi danno comunque un input però poi sono sempre io a cercare di migliorarmi e quello secondo me è la chiave del mindset cioè in ogni caso ti deve piacere perché anche lì io ho quella fortuna che ho iniziato per i cazzi miei cioè io non sono mai andato da un preparatore l'ho pagato e ho detto allenami io ho iniziato perché ho toccato il peso e mi piaceva toccare i pesi e poi da lì ho capito che forse affidarsi a qualcuno che ne sapeva di più sarebbe stata la soluzione giusta ma non sempre è stata la soluzione giusta perché delle volte infatti ci sono dei metodi che a me non piacciono però ovviamente per rispetto al coach li fai sperando ti fidi della persona che paghi giustamente guarda un errore che avrei evitato volentieri in passato era un attimino parlare di più ai miei coach della serie ovvio che non avevo né l'esperienza né la conoscenza per dare dei consigli ma il fatto di secondo me i feedback di un atleta a un preparatore fondamentale della serie guarda che però ecco perché io sono sempre molto introverso molto timido da piccolo poi il posing del lavoro che faccio adesso mi ha fatto capire ma avrei avuto le palle di dire bello stai facendo una cazzata mi sono fatto male ieri sono cose che non dicevo capito però ecco oggi quello è l'unico errore parlare di più ma questo in generale però per dirti ma il fatto del mindset è una ricerca che sto facendo e sto migliorando ancora adesso anzi ma perché adesso bene o male a 35 anni ho un minimo di esperienza che ti permette di capire in più ma poi anche parlato te con Marco adesso quando faccio le serie giù nella grotta cioè mi sembra di spingere poi faccio il peso mi viene in mente Ludovico con il fumetto Ludovico con la barba no no cazzo le ultime tre devi tirare su in quattro secondi io dico merda solo l'ultima ci ho fatto fatica aspetta boh recupero due minuti e parto adesso capito cioè è quello che ti deve venire in mente del tirare di più infatti secondo me quello che fa un atleta buono l'atleta che alla fine si piazza bene sul palco è quello che somma tanti allenamenti il maggior numero di allenamenti di qualità nel corso della preparazione perché non ci pigliamo per il culo capitano le giornate no perché tutti lavoriamo tutti ci abbiamo il nostro tipo cioè qua non si parla di essere cyborg andare lì e morire sotto i pesi è umanamente difficile tenere quel ritmo però a meno provarci come dici tu cioè se tu già vai lì e dici oggi così no provaci nel senso è ovvio che oggi se io ho dormito nove ore e non ho fatto un cazzo spingo come un drago però anche se ho lavorato dodici ore io quella notte là ci provo a spingere ok ma adesso è un alibi adesso si nascondono dietro la programmazione poi devi scalare perché poi non dormi per il mal di testa ma magari magari porco giù del mal di testa però per dirti devi sempre cercare di mettere nel corso della preparazione più allenamenti di qualità che puoi perché ho visto che quelle volte in cui mi gestisco il lavoro la vita privata per allenarmi bene io al check di quella settimana lì io arrivo molto meglio in termini di durezza di rotondità nonostante i miei limiti però vedi è comunque uno sport sul lungo termine tu nel lungo termine devi cercare di fare esperienza e migliorare ma come ha detto Marco perché i metodi non è che ti assicuri il risultato non è che fai levi duty e assicuri il risultato a un ragazzo perché appunto va interpretato ma di fondo ci vuole secondo me il desiderio del ragazzo di allenarsi di amare l'allenamento ci vuole proprio l'amore dell'allenamento perché se no la schedina ti può dare la schedina più tecnica del mondo come diceva Marco l'altra volta un 3x8 del cavolo è molto più performante di 2000 super slow con trazioni di picco tu 3x8 se lo sai ottimizzare sei un grandissimo campione c'è Coleman 4x12 c'è capito 4x12 nessuno cresce solo Coleman però lui c'è cresciuto però sai si bomba come dicono molti sfigati per cui è il discorso però il discorso è questo vedi innanzitutto trovare un preparatore secondo me sembra una cazzata trovare un preparatore che comunque creda nel tuo potenziale questo secondo me è la cosa fondamentale perché se il preparatore non crede di poter tirare fuori qualcosa di buono da te non è un preparatore questo in primis ma soprattutto tu devi amare allenarti e credere in te stesso devi piacere allenarti altrimenti non lo fai il suo sport poi quel preparatore deve essere bravo ad ascoltare il ragazzo e indirizzarti ma la chiave è sempre noi stessi cioè tu devi amare allenarti e capire e voler maturare non devi eseguire le schede non devi pagare ogni mese il coach che ti cambia la schedina cazzi e mazzi come dicevamo che adesso molti ragazzi faticano nella dieta la dieta non è il bodybuilding per quanto mi riguarda la dieta è un alibi la dieta la fai l'allenamento tu lo devi vivere ovviamente ognuno nei propri limiti con il suo stile di vita nel modo giusto io infatti guarda io sono la collina ricerca della stabilità cioè proprio la gestione di questo sport con la mia vita privata e il lavoro cioè nel momento in cui io il progresso più grosso che auguro a tutti è quello di fare il bodybuilding con la naturalezza totale cioè nel senso io negli ultimi due anni perché mi sono piazzato bene le gare ma non perché oltre ad essere migliorato perché la testa andare a legare è una scampagnata cioè andare lì io infatti ho sempre apprezzato gente i pro quelli veri che vanno alle gare anzi cioè stessili a terra ok numero due sali sul palco ah devo salire va bene salgo io i primi anni la vivevo con troppo ossessione ok che poi per il modo di Dio nell'allenamento devi essere ossessionato tu devi andare lì come diceva Marco però capisci che anche lì va contestualizzato perché comunque Yates era uno che voleva andare all'Olimpia comunque parliamo di un grande atleta però non vuol dire che un ragazzino non possa viversela in quel modo di concentrare cioè anche un ragazzino sfigato secco con gli occhiali può comunque migliorare ma di sicuro deve capire che si deve mettere lì e deve viversela innanzitutto in modo naturale perché poi i bodybuilder vengono sfottuti dal mondo perché molti bodybuilder devono farsi vedere che fanno bodybuilding e quella è la cazzata capito se tu devi assiedere l'esigenza di farti vedere che se cammini che sei grosso così che ti alleni io mi ricordo io il primo anno di gare mi ricordo avevo i compleanni di 18 anni di tutti i miei compagni in scuola andai a tutti i compleanni e non toccai un cibo nulla non mangiai nulla per dirti ecco perché mi tembrai all'epoca però pensandoci dato che a quella gara feci cagare perché fu la gara in cui mi spaccare il culo piuttosto meglio un bicchiere di vino provarci con una bella tipa che è fare il cretino culturista di merda che è fargli il muso che non può mangiare questa è una cosa fondamentale che dici io non so anche magari Marco dalla sua esperienza e tutto a me la cosa è cambiata molto con Joe logicamente perché ti ritrovi che tu stai da solo stai nella tua bolla cambia per forze di cosa non lo so io l'ho sempre vissuta in maniera cioè sì lo sgarro esiste con gli amici per carità perché comunque quando li frequento non voglio essere la sociale e tutto però comunque sono molto rigido in generale quando inizi a convivere comunque con una ragazza a cui tieni con cui vuoi costruire qualcosa passa un po' tutto in secondo piano e paradossalmente la cosa che ho visto è che mi ha dato un bel vantaggio nel senso che cortisolemia tendenzialmente è molto più rilassato ho visto che tu ti prendi magari lo sfizzietto che può essere una cosa un po' particolare oppure non conti macros in maniera maniacale ma cerchi di essere un po' più flessibile tra virgolette sempre con fonti buone e tutto perché per fortuna questa cosa la condividiamo e non succede niente quindi quando questo intendi off season pre contest o entrambi no no off season off season ti parlo sempre di off season poi ma facci tanto Ludo anche il pre contest per rispondere anche a te Marco anche il pre contest cioè già la gente che dice cazzo da oggi adesso vedo su instagram da oggi tipo a pasqua non ti dico l'ultimo pasto libero a pasqua da oggi ma cosa lo dici a fare innanzitutto a chi cazzo se ne frega deve anche morire non frega niente muori cioè meglio ma ma tu se ne frega ma soprattutto pasqua mi toglie il pasto libero ma io non lo devo fare mica neanche per forza il pasto libero a pasqua se Gabri diceva giù il primo giugno gareggi tu pasqua quando la fai vabbè amen che cazzo devo fare cioè però vedi proprio non pensare cazzo vado da oggi comincia il pre contest ma si ma si ognuno deve trovare il suo equilibrio io sono cioè è l'equilibrio cioè come dire tu puoi avere anche un equilibrio essere felice nell'essere più rigido o meno rigido ognuno ha il suo però io vedo anche da qui e nei che faccio su instagram molte persone molte persone quando ho parlato del discorso di non contare i macros ma contare la dieta cioè tu hai il cibo ragiona sul cibo non ragionare sui macros sui numeri tu ragiona su quanto pollo piuttosto che carne magra piuttosto che riso cuscuse eccetera già questo la gente ha iniziato a dirmi oddio ma che figata e ho fatto un secondo video di questo e un sacco di gente mi ha scritto mi hai svoltato cioè perché mi sono reso conto che erano tutti calcoli comunque tra virgolette inutili e io sono molto più tranquillo adesso sono molto più rilassato e tanta gente mi scrive come posso essere cioè comunque la gente ha bisogno di flessibilità questa è una cosa che vedo molte persone ne hanno bisogno e sono schiavi da alcuni dogmi che se sei un professionista certe cose le devi fare perché sei un professionista questa è la cosa che la gente non capisce se tu hai le possibilità di diventare un professionista allora ci arrivi e tutto però avere un equilibrio nella vita è comunque fondamentale per certe persone l'equilibrio è essere più o meno rigidi io sono abbastanza rigido comunque di base rispetto a molti altri per altre persone no se non hai questa rigidità come equilibrio trova un compromesso a voglia sì per esempio vedi molta gente ha bisogno proprio della tabella del bodybuilding sui passi su allenamenti per mettere ordine nella tua vita vedo molti ragazzi che vengono a noi in crisi proprio perché hanno avuto non so dei coach e li hanno sbalati del tutto li hanno creati dei paradossi talmente di quei problemi sulla dieta voi non avete idea cioè e quindi hanno bisogno comunque di essere indirizzati poi ovvio che più l'atleta sviluppa esperienze più tra virgolette può insegnarli a non dico autogestirsi ma comunque a trovare appunto un equilibrio ovvio che un ragazzino all'inizio ha bisogno comunque di essere uno schema esatto altrimenti non verrebbe però appunto bisogna insegnare che il bodybuilding è uno stile di vita che non vuol dire sostenibile cazzeggio no vuol dire che devi farlo diventare il tuo stile di vita di conseguenza non deve pesarti farlo non devi sentire l'esigenza di mostrare agli altri che sei un bodybuilder questo vale anche per le donne tu mangi in quel modo tu ti alleni e sei felice non devi ostentarlo è la stessa cosa di essere gay e far vedere ciao oppure non so essere vegano ah no la carne è merda o essere natura ah dopato di merda no cazzo vivete siate felici per la scelta che fate io i fondamentalisti li odio dal profondo del mio cuore io ho qualsiasi tipologia io chiunque fondamentalista fa uscire il nazista che è in me ti giuro ma sai cosa penso di questa gente di tutte le tutte le classi mettiamola così che loro dovrebbero trovarsi che cosa da fare una vita nel senso ma non rompete le balle nel senso lavorate fate l'amore mangiate trovatevi un pesce rosso a guidare il mangime ma non rompete le balle al mondo ma sai quanta gente scrive chiedendomi un'opinione su questioni che a me non me ne frega niente perché io già ce ne ho della mia vita che sembra è una bella vita perché a me piace molto però ce ne ho tanti di cazzi come di cazzi ne avete penso anche voi ma non è che li andate a spettare là in giro ma ognuno guarda secondo me questa gente o non ha un cavolo da fare nella vita o ha tanti di quei soldi che può fare il mantenuto a casa a commentare noi altrimenti ragazzi siate sereni perché la vita vera non è il bodybuilding cioè la vita vera è al di fuori perché a meno uno a meno che uno non abbia tanti di quei soldi e fa il professionista e cambia di rendita sulla sua immagine là è un altro discorso ma l'obiettivo di vita non dovrebbe essere quello perché uno su mille fa quella vita lì è il discorso che deve io infatti quello che dico sempre ragazzi studiate trovatevi un lavoro serio rispettabile e fatevi il culo non aspirate a campare di influencer questo è il concetto ecco io una cosa che voglio chiedere è questo e magari chiudiamo con questo topic qual è il vostro concetto di flessibilità e anche le differenze che avete in off season e in season nella dieta in tutto in generale in generale ve lo dico perché comunque c'è c'è tanta diversità perché c'è Marco che è professionista noi non lo siamo quindi ci sono tanti spunti secondo me che si possono prendere da questo punto di vista Marco vai te allora io parto dal presupposto che come mi muovevo prima mi sto muovendo anche adesso nel senso prima anche anche se ero amateur adesso per carità sono diventato professionista non ho ancora fatto nessuna gara da professionista però l'approccio che utilizzo da un po' di anni a questa parte è quello fondamentalmente io di flessibilità lo ammetto sono anche molto limitato in questo ma per il semplice motivo che mi trovo bene con determinati schemi e quindi non sento neanche la necessità per esempio di andare fuori schema tra virgolette la mia massa adesso sono più o meno sulle 5100 5200 calorie tutte solo ed esclusivamente da cibo pulito le cui fonti sono riso basmati riso integrale a volte gallette questi sono i carboidrati quindi le patate no perché già comunque con una mole di cibo così alta mi gonfiano piuttosto che l'avena mi dà problemi intestinali quindi anche quella mi gonfia mi dà aria eccetera fonti di grassi sempre quelle sono sia in off season che in pre contest quindi olio evo olio di semi di lino olio MCT e una barca di omega 3 6 e 9 tantissime anzi addirittura in pre contest elimino tutto quello che sono le fonti grassi e metto solo omega 3 6 e 9 e proteine anche adesso fondamentalmente in differenza al pre contest faccio magari qualche shaker proteico in più comunque sempre proteine di altissima qualità adesso sto utilizzando l'idrorazan che anche se sono idrolizzate comunque anche durante l'arco della giornata mi trovo benissimo come digeribilità e tutto però le fonti che dopo utilizzo di base sono pollo manzo magro e merluzzo e albume dopo il resto non è che vado prendere ho fatto anche i miei periodi in cui ho provato magari a utilizzare non solo yogurt greco lo skir piuttosto che però vedo che comunque così come sto facendo adesso ho comunque un'attività intestinale quindi gastrointestinale sempre regolare riesco a digerire bene riesco ad andare in bagno regolarmente quindi andare troppo troppo fuori schema vedo che non mi porta niente di più e quello che comunque io cerco è sempre il risultato massimo quindi anche per esempio il cheat meal io per esempio la vedo in modo un po' diverso nel senso l'importante è stare in compagnia non quello che mangi in compagnia quindi se la gente ha piacere di avere me a tavola perché comunque mi piace come come persona come compagnia ok se però sono l'unico che mangia la carne in mezzo a tutti che mangiano pizza non è che deve essere quella la cosa importante del cosa mangi l'importante è stare in compagnia e svagarti più che altro mentalmente io non sono uno di quelli che dico mi segrego in casa non vedo più nessuno non vivo più nessuno no perché se no diventi matto però se esco ho comunque ancora i miei schemi da seguire per esempio in pre contest sono uscito senza nessunissimo tipo di problema fino a 3-4 settimane prima della mia prima gara andando al sushi e da malato tra virgolette però mi portavo il bilancino da spaccino e mi pesavo e il sashimi tono e il sashimi salmone in base ai macronutrienti che dovevo avere mangiavo quello e basta mi portavo le gallette da casa se per caso appunto avevo dei carboidrati da mangiare però il bello è che comunque mi videvo lo stesso l'uscita stavo in compagnia ridevo scherzavo mi svagavo però non utilizzavo l'uscita per svagarmi dal punto di vista mangio quello che voglio mangio qualcosa di diverso cioè io per esempio quello sono molto più più nazi tra virgolette ma questo anche in off season io adesso ho detto quelle fonti che sto utilizzando quelle sono no di come senso il cheat meal no no quello no quello se esco per esempio il cheat meal allora dico ok carne rossa e patate ipotetico allora mi prendo la mia carne rossa che se dopo sono 300 grammi sono 400 250 non me ne frega niente però per esempio in questo periodo che ho una mola di cibo alta quindi arrivo alla domenica che teoricamente avrei 200.000 settimane io dal coach non ne faccio neanche uno magari faccio due ricariche pulite però mi fanno stare meglio cioè non mi fanno svegliare gonfio non mi fanno svegliare rintronato se io mangio tanto junk food la mattina dopo a parte che la notte dormo di merda quindi il giorno dopo sono meno prestazionale meno performante sì perché dopo il giorno dopo devo essere meno performante in allenamento perché ho la testa ovattata ho gli occhi gonfi perché ho esagerato la sera prima quindi è come se sprecassi ogni giorno dopo il cheat meal per cosa? per una cosa che fondamentalmente il mio corpo non ne ha bisogno sono a 5200 calorie al giorno capisci che cioè comunque le calorie per crescere recuperare tutto per essere performante ce le ho quindi sono molto più nazi però ovvio se il cheat meal me lo voglio fare perché non lo so quella sera ho voglia di pizza mi mangio la pizza quello non è però preferisco sono sincero anche dal punto di vista della pelle sia mantenere in un certo modo in off season quindi senza junk food mantenendo solo del cibo pulito su di me e ho visto anche su altri ragazzi però su di me specialmente che l'esperienza logicamente con me è di 365 giorni l'anno vedo che poi sia in pre contest che anche in gara o anche proprio durante l'off season hai la pelle più bella più pulita più fine e poi oltre a quello che uno dice vabbè anche se sei un pochino più appannato cosa te ne frega metti il felpone sei a posto però come dicevamo anche in altri podcast se io devo mangiare comunque junk food che mi dà una ritenzione idrica più alta che mi fa alzare la pressione sanguigna che magari mi sballa tutto il microbiota intestinale quindi non riesco a digerire e assorbire i pasti del giorno dopo che devono servire veramente per essere appunto performanti in allenamento per recuperare cosa mi porta? niente anzi addirittura mi fa regredire quindi visto che comunque quello che a me conta che per me conta è il risultato finale preferisco ottenere sempre una linea abbastanza flat però nella quale comunque io mi trovo bene io ad esempio nel cheat meal in off season tendo a mangiare meno rispetto al piano cioè se mi capita di dover sostituire un pasto io poi faccio meno pasti in generale non riesco a fare tanti pasti e cioè da un punto di vista gastrointestinale devo stare con meno pasti se no mi si impalla tutto ma se quindi se sostituisci un pasto con un cheat meal più di tanto cioè al sushi non ti puoi fare tre atti di riso cioè non ci arriverai mai veramente stai male quindi e poi non c'ho tanta fame in off season come è logico che sia o meglio non c'ho tanto appetito magari la fame c'è ma l'appetito un po' meno quindi io devo essere sincero il cheat lo tengo sempre in off season sia per il momento sociale sia perché per me è proprio un attimo di respiro in cui ok sto a posto cioè respiro ok ma senti proprio la necessità di mangiare junk oppure l'importante è stare in mezzo alle persone guarda io io in genere con lascio sempre scegliere a Joe dove andare a mangiare o facciamo la pizza sua che è la cosa più digeribile in assoluto perché c'ha 48 ore di lievitazione fatta ad hoc eccetera quindi non ti lievita per niente in pancia oppure lascio scegliere lei e lei è molto minuziosa sull'alto livello del ristorante o del posto quindi in genere sono sempre cose non sono tanto junk diciamo cioè gli hamburger sono hamburgerie con carne veramente buona e quindi anche quando c'è la carne buona gli hamburger non li ipercondiscono che questa è una cosa che io adoro io odio gli hamburger quando sono iper pieni di roba che non senti voglio sentire proprio il sangue l'hamburger esatto bravo se la carne è buona basta la carne buona bravissimo cioè tu devi avere il minimo condimento un filo di formaggio un filo di quello che ti va ma devi sentire proprio il sangue dell'hamburger bello così e se no il sushi è un sushi che in genere scegliamo di alta qualità quindi anche là non stai impallato senti il pesce che è buono e tutto in genere poi noi facciamo pizza hamburger o sushi sono i tre principali o indiano qua c'è molto un indiano quindi anche in quel caso un indiano di buona qualità quindi comunque diciamo io necessità proprio di junk non ce l'ho necessità di andare a cena fuori e portare mia moglie a cena fuori quella ce l'ho tanta sì quello si capi? è proprio quello cioè essere coccolati sentirci coccolati sì perché se no diventi un'eremita cioè anche perché no allora ci sta magari io per esempio le ultime settimane della gara no no io ti parlo di off season pre contest per me non esiste il cheat pre contest per me non esiste cioè una volta magari se vogliamo provare qualche manovra eccetera ma per me da quando si inizia no no però proprio come cheat appunto quella cena che può essere fra amici ok ti trovi in 6-8 amici tu logicamente come ho fatto anche io mi pesavo il sashimi bravissimo però l'importante è uscire cioè porto tutto da casa quello sì 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 io pre contest qualsiasi cosa porto tutto da casa oppure vai in un posto dove sai comunque che cucinano bene fanno quello che vuoi infatti no non mi fido io allora ti devo dire quando sto già lontano cioè all'inizio del pre contest per dire se devo andare fuori e prendere una bistecca non mi faccio un problema cioè vado anche perché di nuovo anche là sono sempre bisteccherie buone e quindi trovo sempre il taglio grass fed magari oppure il taglio fatto buono fatto bello cotto blu quindi comunque vai abbastanza tranquillo poi che sia un po' di più un po' di meno cioè se sto a 12 settimane dalla gara sinceramente neanche mi faccio un problema però quando vado proprio a ridosso no mi porto le mie cose ma com'è giusto anche perché poi noi conosciamo tante persone che sanno che siamo atleti quindi se gli dico sto in preparazione sanno esattamente che cos'è non sono di quella gente anche perché io ho tolto del tutto la mia vita la gente che prova a dire vabbè ma che ti fa massaggiano un pezzo ma fai io con questa gente ci litigo proprio male ci litigo male perché una, due, tre volte ti dico che ho la gara poi mi incazzo io sono per il vivi e lascia vivere bravo tu fai quel cazzo che vuoi tu vuoi bere mangiare fai quel cazzo che vuoi non venire a guardare quello che faccio io io non guardo quello che fai tu quindi se tu vuoi mangiare merda a me anche se io sono in pregara se mi mangiano di fianco il gelato la pizza a me non me ne prego un cazzo cioè anzi anzi addirittura divento tipo entro in modalità nonna hai presente tipo anche con la fede amo prova questo che è strabuono dai te lo cucino e quindi e quindi gli metti condimenti e tutto no dici cazzo perché ti viene la modalità nonna no non posso mangiare io ma mangia tu che è buono fidati vabbè pensa che io perché mi passava fame in pre contest guardo men versus food mi passava fame guardo cucina io mi segno le ricette di cucina pensate io sono un cretino cioè guardo tutti i programmi di borghese di cannavacciuolo li guardo tutti li ha un lesionismo però vedetevi vedetevi su netflix è troppo simpatico date da mangiare a phil è un programma con questo comico ebreo americano che va in tutto il mondo a provare e lui non ci capisce un cazzo quindi è tutto buono per lui ok però è un ti fa tagliare perché fa delle facce proprio ogni volta ma ti lo stai facendo e qua è troppo divertente però sì da morire io sia men versus food se no le cose dei track però un sacco di roba di cucina ma la cosa che la gente deve capire è questa perché poi la gente la prende male quando tu stai in pre contest la bf è bassa tutto nella tua testa ti dice di mangiare cioè tutto il tuo corpo ti sta dicendo mangia quindi è logico che insorgono delle forme di di ca o comunque delle forme di controllo disturbo del comportamento alimentare che siano acute nella fase di pre contest ma è normalissimo perché da un punto di vista proprio ormonale ed enzimatico il corpo ti porta là non ci puoi fare niente non esiste al mondo un atleta che una preparazione le ultime gara bodybuilding a bf che vanno sotto l'8% non è food focus non può esserci non esiste non esiste tu vivi per quello tu ti alzi la mattina che sai che devi fare quello io poi in pre contest sono ancora più cioè io ho fatto le ultime gare che sono quelle che mi hanno portato la pelle migliore e la forma migliore alla vecchissima scuola alla leverone riso merluzzo olio omega 3 omega 6 omega 9 cioè perle di omega 3 omega 6 basta cioè non c'era nient'altro riso vasmati e basta merluzzo e perle di omega 3 6 a me del resto non me ne fregavo potevano mangiare qualsiasi cosa ma io penso che se comunque vuoi portare una determinata forma è come quando entri in palestra non deve fregartene niente del dolore o di soffrire di uscire a cartoni stessa cosa la dieta non devi avere paura di far la fame non devi avere paura di mangiare sempre le stesse cose cioè tu devi vedere che quello che mangi non serve per darti una soddisfazione dal punto di vista del palato o dello stomaco deve essere una cosa che ti fa raggiungere il tuo obiettivo anche per esempio se tu devi dare un esame all'università magari quello che devi studiare non è la cosa che ti appassiona di più al mondo però sai che se vuoi avere 30 devi studiare e devi starmi ore ore e ore a studiare se vuoi avere 30 tu puoi anche studiare meno e arrivare a prendere 25 all'esame però non sarà mai la stessa cosa capisci quindi se uno vuol vincere le gare devi dare il massimo sempre una cosa che ho notato ad esempio nella preparazione di James Hollinshed lui addirittura mangiava tutto salato non utilizzando i dolcificanti era tutto sale e pepe tutto salato pure la crema di riso la faceva salata per non utilizzare i dolcificanti i dolcificanti li tolgo a 3 mesi dalla gara tra l'altro cioè io caldo che anche adesso dolcificanti non ne sto utilizzando ma sempre per la questione del microbiota perché vedo che utilizzando meno dolcificanti meno edulcoranti possibile io vado da Dio non mi gonfio non ho dissenteria roba del genere proprio detto così spiccio e quindi ho tolto tutto ho tolto la coca a zero ho tolto tutte le bebite zero ho tolto anche il tic dolcificante piuttosto mangio senza sapore ma so che così mi rende meglio lo faccio non mi interessa del sapore a volte lo so non è il massimo mangiarti cominci anche tu magari il riso a mio presente colazione mi faccio riso frullato riso basmati lo frullo insieme all'albume un po' di cacao amaro cannella e poi gli metto un po' di olio MCT e basta adesso gli sto mettendo per esempio il melograno e i mirtilli Marco però precisa ai telespettatori che tu di cannella ce ne metti in mezzo a confezione cannella vado dai 5 ai 10 grammi a passo se nella serie non usa il tic però usa la cannella vabbè però ok però non è un dolcificante la cannella gli dà sì gusto però insomma non è come il tic io per sbaglio mangio quello e lo faccio sapere la cannella a posto del peperoncino sul pollo e il riso ieri dato che al primo pollo in casa me la sono dovuto mangiare per forza ecco a male estreme estremi rimedi no ma è bello vedere cioè nel senso alla fine sai come dicevo dipende dal tuo equilibrio quello che ti pesa e non ti pesa nel senso che ognuno ha la sua bolla il suo mindset il suo modo di affrontare queste cose quindi assolutamente cioè io sono super super affascinato in pre contest non sono così estremo e ne parlavamo però comunque la cosa è quella cioè il tocchetto magari di cioccolato piccolo non esiste cioè prendere un pochetto di roba in più la cosiddetta per me in pre contest è così cioè proprio netto 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 quindi no assolutamente ed è anche il motivo per cui sai ti ritrovi in una situazione in cui devi dirti ok io il massimo risultato ce l'ho se sono così estremo però come la vivo cioè riesco a viverla bene se la vivo bene ho il top ed è quello che poi ti permette di arrivare al professionismo come tu dimostri tra l'altro se la vivo male devo accettare il fatto che devo trovare un compromesso ok e questo come come in tutto come anche nell'allenamento cioè se non riesci a sopportare allenarti in maniera estrema non puoi allenarti in maniera se non lo sopporti non puoi farlo però accetta che ti stai allenando in maniera mediocre e che otterrai risultati mediocre che poi magari sarai bellissimo ok sei geneticamente portato eccetera ma non arriverai al massimo perché non sei predisposto per arrivare al massimo il bodybuilding non è per tutti sia sul lato allenamento sia sul lato anche alimentazione e vita ma nello sport in generale se voi leggete come vive la vita Phelps piuttosto che qualsiasi Cristiano Ronaldo qualsiasi campione come la diceva Michael Jordan Michael Jordan ragazzi è gente che dà l'anima dà l'anima dà la libertà la sua cosa e Michael Jordan infatti diceva tutti vorrebbero essere Michael Jordan per un giorno nessuno vorrebbe esserlo per la vita no? nel documentario che è una cosa bellissima perché tu dici sì un giorno me lo faccio però cazzo tutta la vita il gioco non vale la candela per molti però per te sì ed è per questo che tu ti chiami Michael Jordan tu ti chiami Phelps e tu Marco D'Ambrosio hai preso la pro card perché per te il gioco vale la candela la gente anche questo deve accettarlo quindi si tratta di un predisposizione anche la genetica è anche questo è predisposizione a sopportazione del dolore della fatica dell'alimentazione di questo e di quest'altro è anche questa una genetica perché non è una cosa che non è una cosa la genetica secondo me è la forma mentale che hai perché se tu sei talmente convinto di voler ottenere qualcosa non è detto che al cento per cento lo terrai perché se no anche io quando ero bambino che ero convinto di andare a giocare al Milan a quest'ora sarei al Milan cosa che invece logicamente non avevo le doti genetiche per giocare al Milan infatti non sono andato male come calciatore finché ho giocato però non sono arrivato di sicuro al Milan come adesso di sicuro non arriverò all'Olimpia per carità però secondo me come affronti la vita aspettavo la reazione di Giuseppe Giuseppe punta Giuseppe punta c'è i suoi cavalli mi sto grattando da quando l'hai detto anche perché anche perché Cristiano ha già fatto ha già fatto magie ha già portato vediamo vediamo step by step come quando per esempio lo dicevo prima della Procard magari c'era l'amorosa il coach anche gli amici i compagni di team no vedrai che la prendi io mi davo di quelle grattate di coglioni ma anche perché è vero c'è sempre una cosa di umiltà è proprio vero io non ci ho mai pensato io non ho mai gareggiato per dire vado e voglio la Procard io gareggio perché mi piace gareggiare proprio a me piace il pre contest il palco in sé mi piace ma se il palco da 1 a 10 mi piace 8 la preparazione alla gara mi piace 11 cioè da 1 a 10 perché è proprio il percorso che mi piace quindi io dicevo io vado mi diverto quello che viene viene dopo è arrivato alla Procard sinceramente contentissimo ovvio cioè se no sarei scemo però non sono mai andato con l'unico solo obiettivo come per esempio sento tanti adesso dicono no adesso col coach andiamo alla Procard si calma vai e gareggia poi se viene bene tu metti ti ricordi quando mi hai mandato il video del backstage della Polonia quando hai fatto il giro della frontale della schiena che ti hai rifatto dipingere nero io cosa ti dissi mica ti dissi dai Marco che qua è tua ti dissi Marco qua sei intoccabile che è diverso nel senso tu nel tuo sei intoccabile cioè meglio di questo fai paura sì però poi è arrivata però non è che ho detto ah vai 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 no qua spacchi no però meglio facevi paura cioè Marco tu quello che devi fare l'hai fatto puoi anche morire sul palco tu meglio di così non potrai mai andare poi è andata bene poi è andata bene però ecco appunto come detto tu molti ragazzi ah io sogno l'Olimpia e quando ti sei piazzata nella gara prima ottava va così mi sa male cioè capisci ragazzi secondo me bisogna dare il massimo per tutto come per esempio se vuoi diventare uno dei migliori coach al mondo studi apri libri tu fai tutto quello che devi fare poi se lo diventerai bene però almeno sei trovato secondo me è quello il giusto come dicevamo anche all'inizio della diretta se tu hai il giusto mindset puoi arrivare al massimo delle tue possibilità se puoi tu al massimo delle tue possibilità non hai niente da recriminarti perché è quello l'importante c'è problema di salire sul palco devi arrivare alla fine della tua carriera devi arrivare insomma in fondo che ti guardi indietro e dici ok non ho niente da recriminarmi ho fatto tutto quello che potevo fare ok se tu arrivi lì e poi ci saranno 10 atleti più forti ci saranno 50 coach più bravi al mondo ma intanto tu hai dato il tuo massimo l'importante è quello che tu hai dato il massimo e non hai niente da recriminarti poi da lì se ci sarà qualcuno di migliore gli si spungerà la mano e tanto di cappella però serve la mentalità appunto sembra partire innanzitutto da quello che si è per poi capire cosa si vuol diventare perché se uno parte dal asone arrivato ah sì merito la pro card se lo dicono dal perché molti se la candano e se la suonano e lasciano che qualcun altro se la cambi se la suonano anche io sendo molti coach infervorai i ragazzi vai che qui non ce n'è per nessuno ma cosa cioè è sempre il solito discorso i ragazzi se la candano e se la suonano i coach gliela suonano dietro cioè ma non dovrebbe essere così perché poi sul palco con i ragazzi li spatassano molto semplicemente quindi ragazzi ragazzi io penso che un podcast in cui siamo andati così off topic non c'è mai stato assolutamente un podcast in cui siamo andati così off topic da quello che era l'argomento non siamo mai andati no ma sai cosa che io mi sono allenato al fruto stasera stanotte alle due e la mancanza di sonno a me poi mi fa diventare poeta due e mezzo a schiena per il cardio fantastico no sì però rimanderei i prossimi podcast perché abbiamo fatto quasi due ore quindi però secondo me sono belli questi anche i ragazzi io credo non so scriveranno qua sotto nei commenti ma credo che apprezzino un po' che uno va a parte per la tangente ci butta pensieri è anche il bello di questi podcast in cui si chiacchiera e si condividono esperienze ma anche per te Ludo facci caso come diciamo spesso parlando così liberamente le volte diamo degli spunti inconsapevolmente perché i ragazzi che ascoltano secondo me è vero su sport trovare un coach e far si guidare ma innanzitutto come si dice è crescere interiormente cioè fare dei discorsi per sé cioè ok far si guidare ma non eseguire fatevi le vostre idee quindi imparate a capire le cose e lì nei momenti in cui uno crea consapevolezza è la cosa più importante dei podcast cioè si possono dare dei consigli si può indicare la strada ma creare consapevolezza secondo me è la cosa più importante perché uno le domande se le fa e poi riesce a capire ciò che è meglio e cosa sbagliare di questo sport perché di merda ce n'è tanta e noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo è quello di un attimino indirizzarli poi ovviamente i ragazzi sono tutti vaccinati si fanno l'idea però intanto un ragazzo che non è stupido ascolta due conti e due di re se le fa io sicuro super d'accordo ragazzi allora io vi rimanderò al prossimo podcast yes vi ringrazio come sempre niente i ragazzi voi scriveranno sotto nei commenti per tutto dai scrivete scrivete fateci sapere assolutamente ciao e un abbraccio grazie a tutti su whatsapp per riorganizzarci privato come sempre yes ciao ciao ragazzi a tutti ciao 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 ciao